Ciao a tutti ragazzi, sono Lose Mi sembra che si veda peggio delle altre volte In questo settimo, ottavo, ottavo livello di Hardest Game Ever 2 Farò vedere la stage 8 appunto che fotografa le modelle Praticamente bisogna fare le foto alle ragazze usando le tre dita Il più velocemente, cioè non il più velocemente possibile Sì, alla fine sì, devi essere un po' rapido Per esempio qua, devi fare così Ora lo sto facendo con pollice e pollice Però per fare una cosa fatta bene dovresti fare con indice e medio della stessa mano Poi all'ultima usciranno tre modelle Sarà un po' difficile da fare Comunque bisogna fare 150 foto senza beccare i robot Giusto per farvi vedere come si fa Ora, che avete visto Faccio vedere se riesco a fare S qua usando tre dita Anche se voi non vedrete niente però ci provo Vediamo Porca puttano, sbagliato Aspetta Bisogna essere più che altro veloci con le dita Perché i riflessi qua in sto gioco non è che c'entrano tanto È che se le dita non ti vanno veloci Non è che riesci a fare più di tanto Di solito, cioè dovresti fare 10 tocchi per ogni modella che c'è Ogni ondata che ti esce Per esempio se ci sono due modelle ovviamente dovresti fare 20 tocchi Il mio record è stato mi sembra 147 Qua ho fatto 131 Sì, 147 Sì con lì 400 Vabbè Comunque Niente per questo Ecco c'è una notifica di Ruzzle Razzle O come Vabbè Per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo video E Ciao ragazzi Ciao